Ancora un ribaltone, ancora un allenatore che lascia il lanciano in un inizio di stagione che ha davvero dell'incredibile. Dopo il divorzio di Alessandro Del Grosso e l'arrivo di Lucarelli, ecco che dopo soli 18 giorni al comando, una vittoria e un pareggio in Coppa, sonora sconfitta in campionato il bilancio, anche Lucarelli lascia il progetto rosso-nero, consegnando le dimissioni a due giorni dal debutto della squadra al biondi. L'allenatore non avrebbe ricevuto le garanzie auspicate in fatto di rafforzamento della squadra, con rapporti via via tesi con la dirigenza, triti, mancanza insomma di armonia. Lucarelli sbotta e se ne va a poche ore dalla chiusura del calcio mercato, con le richieste non esaudite di portare il rosso-nero, due difensori, un centrocampista e un attaccante. Consegnata alla dirigenza anche una corposa lista di giocatori non graditi, la società ha considerato la situazione inaccettabile in piena chiusura della campagna trasferimenti, dunque l'insanabile frattura. La squadra frastornata è stata allenata da Francesco Di Gennaro, pare che tra lui e Lucarelli si siano verificate le incomprensioni più marcate, mentre in panchina contro il Ponte Vomano siederà Peppino Di Pasquale, che potrà contare su un nuovo arrivo. Si tratta dell'esterno d'attacco Denis Di Rocco, classe 1997 del Pineto. Sentiamo il presidente Fabio De Vincentis. Lucarelli ha avuto, diciamo, come ho detto poc'anzi, ha avuto delle sue idee che comunque bisogna sempre interfacciarsi con la società e quindi non abbiamo fatto, diciamo, un qualcosa da parte nostra e da parte sua che si potesse continuare insieme, quindi c'è stata la scelta di terminare anzitempo. Sono successe delle cose che sia da parte nostra che da parte sua non hanno funzionato più di tanto e quindi la scelta oggi del mister di non essere, diciamo, l'allenatore del Lanciano. Ma non è successo niente, guarda, sotto questo aspetto qua noi siamo super tranquilli, il mister è altrettanto super tranquillo, dobbiamo guardare gli obiettivi del Lanciano calcio e tutti insieme per seguirli. Questo è quello che mi sento di dire e di enfatizzare al massimo. Ma in panchina stiamo lavorando, stiamo lavorando per poter fare un giusto percorso perché non è che si riesce a fare dall'oggi al domani un cambio del genere, quindi siccome so di avere un gruppo super coeso di ragazzi sanno quello che devono fare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita e questo mi entusiasma e mi dà tanta forza, ma dà tanta forza pure a loro perché un'unione del genere a livello di gruppo non è che si vede anche, quindi questa è una testimonianza da parte mia, ma è una testimonianza di quello che possa essere il futuro anche da parte loro.